E' appena finito il GP di Francia di Formula 1, di conseguenza ha reso un podcast a caldo per parlare di quello che è successo alle Castellè, al circuito del Pourricard, circuito che tendenzialmente regala gare non spettacolari, tendenzialmente anonime. Qui non ci sono stati grandissimi episodi se non uno significativo, ovvero quello che è successo a Charles Leclerc che commenta un altro zero pesante e si allontana sempre di più alla rincorsa al titolo del mondo, visto che ancora una volta il suo diretto rivale Max Verstappen ha vinto per la seconda volta consecutiva qui in Francia. Ancora una volta davanti a Louis Hamilton, ma andiamo con ordine e partiamo dall'episodio che evidentemente ha deciso la gara perché alla fine, tranne giusto un paio di episodi, alla fine dal ventesimo giro in poi la gara non è che abbia raccontato chissà che Leclerc per un errore suo alla curva doble passée perde la macchina che aveva già un'impostazione di base molto sovrasterzante, il Monegasco va largo nella trattore ideale rispetto a quella curva che tanto per interesse è quella che segue la curva della signe, perde appunto la macchina e si chiude il posteriore e finisce a un muro dall'altra parte causando una safety car. È ancora una volta un errore di Leclerc che peraltro viene ammesso dallo stesso pilota Monegasco in zona mista alle interviste, è un errore che da certi punti di vista ricorda quello di Imola. A Imola Leclerc nel tentativo di spingere eccessivamente, in quel caso era dietro Perez, persa la macchina alla variante Gresini, qui stava spingendo, prima di rientrare ai box sull'indicazione del muretto, va detto che quell'assetto della macchina che aveva evidentemente forse non era, non dico necessario spingere, però comunque aver forzato un po' di più rispetto al solito ha causato questa perdita di posteriore che appunto ha messo fine alla gara del Monegasco. Ripeto, onestissimo Leclerc che ha detto che se perderà il titolo del mondo per 32 punti sarà figlio degli errori di Imola e Leclerc è indubbiamente un'analisi corretta, perché è vero che Leclerc lotta per il titolo del mondo, ma è altrettanto vero che errori di questo tipo, un campione come Leclerc è in lotta per il titolo del mondo, sono difficilmente perdonabili, soprattutto se l'avversario in questione è Max Verstappen. Max Verstappen che è anche maturato nella condotta di gara, qui gli è stata pure spingata la strada per il cittadino di Leclerc e ha avuto modo comunque di gestirla sul passo gara. Verstappen che di certo non passa per un pilota metodico e tranquillo, anzi tutt'altro, l'abbiamo visto banalmente l'anno scorso. Abbiamo sempre detto però comunque che sia Verstappen che Leclerc sono di un altro livello, c'è però un piccolo problema. Gli errori di Leclerc sono dovuti non solo ad affidabilità, ma abbiamo anche due casi di errori suoi. Nel caso di Verstappen abbiamo errori e così per affidabilità, errori che qui invece non ci sono stati, perché alla fine Verstappen vince, non dico per dispersione, ma ci siamo molto vicini, e il Gran Premio di Francia per la seconda volta consecutiva. Di conseguenza è ancora una volta Ed Wilhelmus che risuona per il campione olandese, un campione olandese che allunga in testa la classifica dal momento che i suoi diretti avversari sono appunto finiti dietro di lui, perché in teoria l'avversario più vicino sarebbe addirittura Perez, che però è finito quarto, che comunque c'è un grave errore di cui parleremo più avanti. E appunto Leclerc si è fatto fuori da solo con quell'errore sciacurato in curva doble passée. Per fortuna per il Monegasco c'è l'Ungheria e in un'Ungheria dove non si sorpassa, avere un qualificatore così forte come Leclerc può essere indubbiamente un rimedio per il pilota Monegasco e per riprovare ad entrare in corso prima della pausa estiva. Certo però che la classifica non sorride al pilota Monegasco, perché appunto come dicevo prima Verstappen ha ulteriormente vinto, sono 233 i punti per l'olandese che appunto si aggiudica anche una volta. Una gara quest'anno, va detto che in realtà non vinceva due gare dal GP del Canada. Leclerc è a 170 punti e Perez appunto gli riguadagna punti, il distacco però è emblematico perché sono 233 punti per l'olandese e 170 per il Monegasco, un distacco veramente abissale, siamo appunto intorno ai 60 punti più o meno, siamo 63 per essere precisi. È comunque un buongiorno per ribadire che la Mercedes invece è tornata, perché è vero che abbiamo parlato dei due principali contender, ma abbiamo detto di chi ha completato il podio. Abbiamo comunque merito di poterlo fare adesso, perché secondo è un redivivo Lewis Hamilton che dal Canada in poi evidentemente ha fatto quel click mentale per essere competitivo con una macchina che di certo non lo è, non l'aiuta. Hamilton non vincerà il titolo del mondo quest'anno, ma comunque avere un pluricampione del mondo inglese, ancora sul pezzo, è veramente positivo secondo me per questa Formula 1. Peraltro Hamilton ha raggiunto un milestone importante nella sua carriera, ovvero quello dei 300 gran premi disputati, e ha fatto un podio significativo. Peraltro Hamilton è anche andata leggermente male, perché nella safety car causata da Leclerc il pit stop della Mercedes è stato leggermente più lento della Red Bull e di conseguenza Verstappen è finito davanti al pilota inglese. Certo, anche se Hamilton fu uscito davanti a Verstappen e Verstappen avrebbe passato lo stesso, comunque è un'ottima seconda posizione. Così come è ottima la terza posizione di George Russell, che dopo l'Azerbaijan torna sul podio e ha una manovra importante dalla sua Russell, quella di aver approfittato della Virta Safety Car di Guan Yu Zhou, che si è dovuto fermare per problemi tecnici, Perez si addormenta clamorosamente, Perez era in piena posizione da podio, alla fine Russell con un guizzo superiore alla meglio del messicano e di conseguenza ulteriore podio per Russell, che dunque appunto porta due Mercedes sul podio, e firmate dove volete che era impossibile a inizio stagione prosticare due Mercedes sul podio. Segno che evidentemente la casa di Stoccarda ha lavorato tanto sui problemi che ci sono, Hamilton e Russell perdevano, anziché il solito secondo al giro, perdevano due tre decimi, il che è assolutamente positivo, considerato appunto la base di partenza che era disastrosa. Due Mercedes sul podio sono fuori, la seconda Red Bull con Sergio Perez, che ha il gravissimo errore secondo me di addormentarsi tra virgolette alla ripartenza della Virta Safety Car e si fa fregare da Russell, dopo che per tutta la gara Perez aveva dimostrato di avere una difesa molto coriaccia sul pilota inglese. Quinto invece è Carlos Sainz, che dimostra invece come questa Ferrari era comunque competitiva, va detto che Sainz finisce quinto, ma per via di una qualificazione molto complessa sappiamo che Sainz ha cambiato la centralina e tutto il motore della sua Ferrari e di conseguenza per penalizzazioni varie è partito ultimo, arriva quinto, ha fatto peraltro un sorpasso clamoroso su Sergio Perez, che vale solo per quello il driver del giorno perché è un po' il riscatto di Carlos Sainz da quando ha vinto evidentemente a Silverstone il pilota, secondo pilota della Ferrari, ha comunque fatto un click da quel punto di vista, ha sbagliato meno, ha aiutato la squadra quando serviva, vedi per esempio la qualificazione di Leclerc in pole position e anche merito dell'aver aiutato appunto il Monegasco da parte dello spagnolo e soprattutto ha dimostrato una costanza di passo che mai li c'era vista nelle gare precedenti perché nelle gare precedenti Sainz prendeva le piste da Leclerc, qui fa pure il giro veloce, nonostante una strategia che francamente non ho capito perché una volta che ha superato Perez io francamente avrei lasciato andare il pilota spagnolo, certo era sui gomme medie molto usate quindi c'era il problema che con le pirelli si era visto in altre gare che le gomme scoppiassero, si usurassero e quindi Sainz perdesse tempo, fatto sta che comunque Sainz salva una quinta posizione partendo dal 19esimo quindi è ovvio che in questo caso il pilota spagnolo sia il mio driver del giorno. Proseguendo abbiamo un altro spagnolo in top 10 ovvero Fernando Alonso in sesta posizione, Alonso che come al solito si inventa delle partenze clamorose e poi si difende con dei passi gara molto interessanti è tornata la McLaren incredibilmente in zona punti peraltro con entrambe le macchine perché Lando Norris finisce settimo e addirittura Daniel Ricciardo finisce nona quindi probabilmente abbiamo trovato la nostra dimensione in questo mondiale con una quarta forza evidentemente di questo campionato in mezzo ai due McLaren c'è Est Malocon uno degli idoli di casa che finisce ottavo con la seconda Alpine chiude la top 10 incredibile la Stroll che mai mi sarei aspettato finisse a punti in generale in Francia che non è un circuito probabilmente adatto all'Aston Martin e invece il canadese mi smentisce e conquista il suo quarto punto della stagione. Chi è fuori dalla zona punti ed è secondo me la delusione del giorno è Pierre Gasly perché sappiamo che Gasly è un pilota molto veloce e sappiamo che l'Alfa Tauri anche in qualificazione fa delle prestazioni molto interessanti vedi per esempio oggi che Tsunoda è arrivato per esempio ottavo ma Gasly con quest'Alfa Tauri secondo me non si può permettere di perdere una macchina nettamente inferiore come l'Aston Martin va detto che la squadra inglese aveva un passo gara incredibile ma l'Aston Martin pecca di qualificazione cosa che l'Alfa Tauri di solito non fa ma Gasly è da qualche gara questa parte che sta veramente deludendo sia sul giro secco in prova sia sul passo gara e di conseguenza questa posizione è molto anonima soprattutto perché è arrivata dietro a squadre che Gasly secondo me può battere tranquillamente a occhi chiusi vedremo se comunque ci sarà modo di rifarsi in Ungheria Ungheria che appunto correrà la settimana prossima prima della pausa estiva delle macchine che appunto è tutto agosto mentre ad agosto riprenderà la MotoGP sarà un circuito interessante perché sappiamo che è molto tecnico sappiamo che è difficilissimo superare chi si vince di strategia sappiamo che Leclerc è un grande qualificatore e appunto ha un rendimento in prova clamoroso probabilmente nessuno come lui o se ce ne sono saranno probabilmente in due o tre in qualificazione in quell'aspetto lì va detto che questo Verstappen che è così in confidenza con un passo gara il più delle volte superiore è difficile però se Leclerc parte davanti come è capitato nelle ultime gare attenzione perché può esserci già il rischio di me riscatto la prima volta a Monegas che appunto dovrebbe prendere una vittoria come risultato prima della pausa estiva come appunto morale positivo in modo che poi si possa riprendere da Spine poi con un rush verso questa rincorsa a mio avviso sempre improbabile al titolo del mondo che comunque all'omento vede Max Verstappen in testa a 233 punti la Formula 1 appunto dicevo tornerà in Ungheria così come tornerà in Ungheria anche la Formula 2 che ha corso alle Castellet in sostituzione della gara di soci cancellata per i motivi che noi tutti sappiamo in Formula 2 che appunto vede il leader del campionato in Felipe Drugovic il ragioniere mi verrebbe da dire di questa stagione della categoria cadetta perché dopo un inizio di stagione clamoroso culminato con quattro vittorie nei primi quattro round Monaco compresa alla fine il brasiliano desiste continuamente tutti i vantaggi che ha e alla fine approfitta anche di errori dovuti a varie circostanti dei suoi diretti avversari perché per esempio in gara 2 si ritira Logan Surgent uno dei piloti più in forma del campionato e alla fine chi vince non gli porta via punti più di tanto perché vince nella gara importante quella della domenica mattina a Yumu Iwasa pilota junior della Red Bull per il quale suona il Kimi Gaiò il nazionale giapponese grandiosa vittoria qui del giapponese che di passo gara semplice dà veramente le piste agli avversari e veramente vince una gara meritatissima Yumu Iwasa corre per il team Duns seconda posizione per l'idolo di casa Theo Pursher che è il runner up di questa stagione di Formula 2 ha tanti punti di stacco va detto ancora da Drugovic ma in gara 2 appunto Pursher limita i danni sul brasiliano e gli guadagna addirittura dei punti quindi bella prova anche del pilota del Team Art Team Art che fa doppietta un po' come Mercedes nel seconda e terza posizione perché c'è il podio anche per Fredrik Vesti il pilota danese redivivo gara 1 invece la vince il neozelandese Liam Lawson seconda vittoria stagione per un altro pilota del Red Bull junior team Lawson corre per il team Hightech ascoltatemi per il team Carlin quindi team inglese per lui sono a God Defend New Zealand seconda posizione invece per Ihan Daruvala indiano del team prema anche lui junior della Red Bull e alla fine quel Felipe Drugovic che rimane comunque leader del campionato ha fatto comunque un altro podio gestendo peraltro una gara molto importante peraltro va detto che il podio di Drugovic in gara 1 è frutto di una penalizzazione a Purcher di 5 secondi Purcher che è arrivato pure davanti in gara 1 a Drugovic quindi la stella ha sorriso ancora una volta al pilota brasiliano che va appunto in Ungheria prima della pausa estiva come leader in cosa stagione del campionato e che può ancora gestire il vantaggio che ha chiudiamo velocemente con un'altra categoria che ha corso ovvero la W Series di cui ho dato pochi aggiornamenti perché va detto non c'è molto da dire sappiamo che c'è una pilota da battere e che però è potente che è intimbattibile ovvero Jamie Chadwick che è un'opsinata della Williams e non mi dispiacerebbe vedere l'anno prossimo nella Formula 3 superiore quella con i maschi o addirittura in Formula 2 perché sappiamo che la Formula 3 femminile e la W Series è una configurazione un po' primordiale un po' come erano le vecchie GP3 ma abbiamo una sola campionessa ovvero la pilota inglese che appunto è a punteggio pieno è praticamente imbattibile questa volta non parteva neanche dalla pole position veramente fermatela abbattetela perché altrimenti il titolo del mondo della Formula W della W Series femminile è bello cantato già praticamente nelle prossime gare completano il podio Belen Garcia al primo podio della carriera in questa stagione e terza è Nerea Marti quindi altri due spagnoli sul podio per completare un campionato che va detto in realtà è praticamente già chiuso perché ci sono 70 punti di vantaggio dopo 5 gare qualcosa di irreale ripeto Jamie Chadwick deve andare in una categoria superiore che sia la Formula 3 o la Formula 2 la W Series che non tornerà appunto in Ungheria la ritroveremo nelle altre gare troveremo invece Formula 2 Formula 3 post super cup appunto in Ungheria al circuito di Muggered dove vedremo ci sarà il riscatto di Charles Leclerc oppure un'ennesima conferma della Mepul con Max Verstappen e la Mercedes si farà ancora confermarsi come spoiler tra l'olandese e il Monegasco lo vedremo tra una settimana esatta nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate del RSI Podcast della Formula 1 del GP di Ungheria il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video un'esercizio 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 un'esercizio